Federica Petagna, giovane protagonista del reality show Grande Fratello, ha fatto il suo ingresso nella casa solo poche settimane fa, portando con sé una storia d'amore complessa. Dopo aver partecipato a Temptation Island con Alfonso Dapice, i due sembravano destinati a una riconciliazione. Tuttavia la situazione si è complicata rapidamente, con Federica che ha iniziato a mettere in discussione i suoi sentimenti. La giovane infatti ha rivelato di non provare più gli stessi sentimenti per Alfonso, avvicinandosi a un altro tentatore, Stefano. La situazione è diventata ancora più intricata quando all'interno della casa Federica ha baciato Alfonso sotto le coperte. Questo gesto ha scatenato una serie di eventi che hanno portato a tensioni palpabili. Quando Alfonso ha rivelato il loro segreto, Federica si è sentita tradita e ha deciso di prendere le distanze da entrambi i ragazzi. Ma la storia non finisce qui. Durante una puntata del reality è emerso un terzo ragazzo, Antonio Fico, che ha affermato di aver avuto una frequentazione con Federica, aggiungendo ulteriore confusione alla situazione. Nonostante le complicazioni, il 21 novembre, durante un aperitivo settimanale, Federica e Alfonso si sono baciati di fronte a tutti. lasciando intendere che la giovane aveva finalmente preso una decisione. I coinquilini hanno assistito alla scena, mostrando entusiasmo e supporto. Tuttavia, poco dopo, Federica si è allontanata per parlare con Stefano, dando vita a una lunga conversazione in giardino, caratterizzata da abbracci e momenti di intimità. Questo ha scatenato la gelosia di Alfonso, che ha chiesto spiegazioni, portando a una discussione accesa tra i due. La situazione all'interno della casa del grande fratello è diventata una vera e propria telenovela, con Federica che si trova a dover gestire sentimenti contrastanti e le aspettative dei suoi compagni. La giovane sembra voler mantenere il controllo della situazione, ma le sue azioni lasciano presagire che la strada sarà tutt'altro che semplice. Con un copione che sembra già scritto, i telespettatori sono ansiosi di scoprire come si evolverà questa intricata vicenda amorosa. Riuscirà Federica a trovare la serenità tra le sue scelte.